Questo Natale cambia musica! Per il regalo perfetto lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, siamo nella sede del Partito Democratico Vogherese. Pierezzo Ghezzi ha appena annunciato un nuovo alleato per il prossimo ballottaggio, ovvero Fabio Aquilini, leader del Movimento Civico Italia del Rispetto, che è qua con noi e durante la conferenza stampa ha parlato di questa dignità che l'uomo politico deve ridare alla politica, alla politica cittadina. Trova che Ghezzi abbia queste caratteristiche? Buongiorno a voi. Sì, credo che chi abbia queste caratteristiche, perché l'ho conosciuto in questo anno di lavoro fatto insieme nelle varie raccolte firme, del Prepo Scuola, della Clinica Sant'Eme delle Grazie, l'Alta Velocità, il Viene Grotto e varie, e ho trovato una persona che quando esprime un concetto lo esprime sapendo che può comunque realizzare, altrimenti non lo esprime. Quindi credo che sia una persona che rappresenti questo nostro concetto. Possiamo dire che era un po' una naturale evoluzione e conclusione di questo anno e mezzo di lotte sul territorio, sulla strada, attraverso le raccolte firme e tante condivise proprio con il PD, con la lista civica Ghezzi? Ma diciamo che io sono una persona che il mio intervento nella politica, io non mi ritengo solamente un politico. Quindi il lavoro fatto con Perizzo Ghezzi da un punto di vista politico poteva essere così, però la decisione finale è avvenuta perché, come ho detto prima, rappresenta quelle caratteristiche, perché se non rappresentava quelle caratteristiche probabilmente non si prendeva questa decisione. In caso di Vittoria di Ghezzi le piacerebbe assumere un ruolo politico all'interno di una nuova giunta di centro-sinistra, la stessi quale? No, non mi piacerebbe. Non mi piacerebbe per il semplice fatto che io quello che sto facendo è portare avanti un pensiero, che è quello che è stato detto all'inizio, cioè recuperare il valore del rispetto nell'uomo politico. E mi piace stare di dietro a questa azione, non occupare delle poltrone. Non sono questo io. Baggini, Bariani, Di Piero, Aquilini. Come definirebbe questa squadra di alleati per il prossimo ballottaggio? La definisco come una squadra di persone molto serie, che hanno cuore e l'interesse della città, che non hanno interessi personali, ma solo interessi collettivi, che hanno provato e hanno visto da vicino che cosa vuol dire gestire voghera come la gestisce barbieri, che si sono allontanati e hanno aderito al nostro programma. Una pattuglia di persone, di brave persone, che misurano il loro essere vogheresi nel rilancio della città. E quindi insieme abbiamo deciso di tentare il 29 di gennaio di cambiare aria a Palazzo Gunela. E credo che ce la faremo con questa gente. All'interno di questa pattuglia di persone ci sarà qualche nuovo arrivo da qui a fine gennaio, oppure le sorprese sono finite qua? Io sto assistendo a parecchie persone che bussano alla nostra porta, che vogliono confrontarsi su quelle che sono le prospettive che noi daremo alla città e che vogliono sostanzialmente partecipare, perché si sono sentite abbandonate. Cinque anni di barbieri ha gestito la città con un clan di persone estremamente ristretto, dimenticandosi dei bisogni di 40.000 abitanti. Io ho distribuito circa 3.000 questionari nei quartieri e nessuno dei cinque anni l'ha visto. Quindi c'è una forte esigenza di partecipazione. Su questa esigenza di partecipazione noi giocheremo i destini di Voghera nei prossimi cinque anni. Possiamo dire che Aquilini non ha dovuto bussare alla porta. Sto anno al vostro è stato un incontro avvenuto sulla strada, attraverso le raccolte firme e le lotte che avete fatto sul territorio. Direi di sì, e voi siete stati anche buoni testimoni, perché ci avete accompagnato in questo percorso, da Strada Grippina alla Clinica Santa Maria delle Grazie, a Via Cattaneo, a Strada Valle, al Prepo Scuola. Sì, è un incontro che è avvenuto nelle cose. La brava gente si incontra sulle esigenze dei vogheresi e insieme costruisce un percorso di positività e di rispetto, come dice Aquilini. Quindi noi rispettiamo le esigenze dei vogheresi e per i prossimi cinque anni, se i vogheresi ci daranno fiducia, vedrete una città rinascere. Aquilini poco fa ci ha detto che non ambisce ad ottenere un ruolo all'interno della Giunta, ma lei una proposta gliela farà oppure no? Con Fabio abbiamo parlato di quale potrebbe essere il suo ruolo dentro la compagine che stiamo formando. Credo che lui avrà un ruolo importante, se lo accetterà, dentro la gestione e la consulta dei quartieri, perché è molto vicino alla gente, molto vicino alle sue esigenze, ha sviluppato 80 raccolte firme in città e quindi ha una sensibilità molto attenta a quelle che sono le esigenze delle persone comuni. E da commerciante ovviamente ha anche la possibilità di... Esatto, questo è l'altro ruolo che ha, quello di commerciante che mette il naso in tutti i negozi ed è un buon orecchio per la città, perché i commercianti costituiscono, i commercianti di prossimità, il commercio di prossimità è una parte importante all'espino dorsale dello sviluppo economico della città e su questo ci darò una mano insomma. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.